Il primo effetto positivo che gli operatori economici della provincia di Siracusa attendono con ansia con la colorazione in giallo della Sicilia è il ritorno dei turisti. Oggi hanno riaperto il Parco archeologico della Neapolis e il Castello Maniace e torna all'attività anche il Museo archeologico regionale Paolo Orsi, mentre per il Museo Bellomo si dovrà aspettare non prima del 24 maggio. Da domani cominceremo a presidiare gli ingressi di parchi e musei, afferma così Carlo Castello, presidente dell'Associazione delle Guide Turistiche Siracusane. Sappiamo che non possono esserci i turisti stranieri, ma si spera di iniziare a lavorare almeno con i visitatori di prossimità, quindi siciliani e italiani. Cominciano a rimettersi in moto anche le strutture alberghiere. Se fino a ieri le prenotazioni erano concentrate soltanto nei mesi di luglio e agosto, oggi pervengono prenotazioni di camere già per il weekend del 2 giugno. È un segno incoraggiante, dichiara Giuseppe Rosano, presidente di noi albergatori. Certo non si risolve il problema perché mancheranno gli stranieri che componevano la parte sostanziale dei flussi turistici a Siracusa, prosegue Rosano. Nel 2019 la presenza di stranieri sul territorio aveva superato del 54% quella italiana, mentre a tutt'oggi il dato si ferma al 2%. È importante, dichiara ancora Rosano, dare l'immagine di una regione che può accogliere i turisti in sicurezza. Se falliamo in questo obiettivo soccomberemo a competitor come Spagna e Grecia, mentre ci preoccupa Malta che ad ogni turista offrirà un tesoretto da spendere durante la permanenza sull'isola. Ripartenza a singhiozzo per gli stabilimenti balneari. Uno su cinque è pronto da ieri a riaprire gli ombrelloni e sedie sdraio. Gli stabilimenti più strutturati, afferma Giampaolo Miceli, vicepresidente di CNA, ripartiranno la prossima settimana. La stragrande maggioranza degli operatori però ha deciso di ritardare la riapertura a giugno. In termini numerici significa che su 45 stabilimenti balneari 8 apriranno subito in città e nell'area di noto. Il paradosso della stagione è costituito da Portopalo dove incombe la zona rossa e 6 operatori del settore subiranno una nuova mazzata. I problemi maggiori si riscontrano invece nella ristorazione dove almeno il 30% degli operatori non potrà riavviare l'attività per mancanza di spazi all'aperto. Noi non riapriremo, dice Giovanni Guarneri, uno degli chef più rinomati di Ortigia, perché allestire un Deore in via Maestranza avrebbe un costo insopportabile. Aspettiamo che si ritorni presto alla normalità e che finisca lo strascismo che genera paradossi, come nel caso del coprifuoco, una vera follia. Sulla scia del teatro greco, in attesa di una deroga per 2.500 spettatori, anche i cinema e gli altri teatri provano a riaprire. Al momento, invece spiega Giuseppe Vasquez, presidente di Confesercenti, per Siracusa i cinema non riapriranno. Sale piccole, distanziamento e una programmazione di film dedicata solo al web non consente azzardi. Ci sono però proposte iniziative per avere una stagione estiva teatrale e concerti in strutture ben organizzate e sicure. In cantiere progetti per proiezioni cinematografiche all'aperto, al fianco di rassegne come Ortigia Film Festival e le serate in Piazza Santa Lucia.